os 2021 continua siamo allo stand di apicoltura casentinese srl un'azienda toscana che è presente sul mercato da molti anni e ci troviamo in compagnia di andrea dinunzio il direttore vendite italia andrea benvenuto grazie grazie mille è un grande piacere avervi ospiti qua al nostro stand noi siamo un'azienda di produzione di miele e confetture come dal nostro nome apicoltura casentinese nasciamo nel cuore della toscana quindi nel casentino in provincia d'arezzo l'azienda oggi ha due asset produttivi asset miele e asset confetture nel nel 2016 ha deciso di entrare in maniera importante nel canale oreca sia nazionale internazionale a oggi siamo presenti sia in italia quindi nel mercato interno sia nei principali mercati internazionali e presentiamo ost una novità molto importante che è una linea prodotto dedicata al mondo dell'oreca quindi al canale oreca una collezione che si chiama creme d'autore tutti i prodotti anidri quindi parliamo di 25 giorni fuori frigo sempre nella nostra soluzione di dispenser con 6 grammi di dosata quindi food cost controllato l'azienda durante il periodo del lockdown ha deciso di fare investimenti importanti pensando a una soluzione innovativa che l'azienda ha brevettato e che presenterà sul mercato alla nel q2 quindi all'inizio sostanzialmente del ad aprile del 2022 con una soluzione di dispenser completamente automatizzata e anche e anche touchless quindi vedremo questa soluzione sul mercato interno e sui mercati internazionali a partire da ma da aprile del del 2022 poi servite soprattutto il canale oreca il target di riferimento è naturalmente quello dell'hotelleri degli alberghi dei catering ma anche di tutto ciò che è mobile ad esempio le navi da cruciera i treni allora sì dal 2016 l'azienda ha fatto accordi importanti con le principali catene dell'hotelleri internazionale come accorre che è il tra i primi tre gruppi come quota di mercato nel mondo con circa 4.900 hotel il gruppo accorre multinazionale francese ha deciso e ha creduto in noi e in questo progetto in questa soluzione e abbiamo fatto un contratto su scala globale con la nostra soluzione appunto di dispenser inoltre l'azienda è presente anche nel canale barbeckery che è l'ultimo nato e siamo poi a bordo presenti abbiamo una quota nel mondo cruise e lavoriamo con msc crociere e royal caribbean siamo convinti e certi che la soluzione che andremo a presentare nel 2022 ci consentirà di allargare la gamma e di entrare in maniera sempre più importante all'interno del canale oreca e dunque per tutti coloro che sono dall'altra parte hanno guardato l'intervista e vorrebbero entrare in contatto con voi per avere magari maggiori informazioni e stabilire un nuovo rapporto di natura commerciale qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere allora l'indirizzo mail è info chiocciola apicoltura casentinese punto com e saremo onorati di rispondere alle vostre alle vostre richieste andrea grazie per il prezioso contributo parleremo successivamente di voi delle vostre iniziative dei vostri prodotti su oreca news punto it e naturalmente sulla rivista il fuoricasa dedicata al pubblico dell'oreca e del food service grazie andrea grazie mille a voi davvero un grande piacere grazie grazie mille a voi